Siamo lavorando, è una squadra che sta lavorando tutti insieme per cercare di ottenere un risultato pieno contro l'Armia. È una squadra che comunque ha sempre lavorato bene, anzi è una squadra che durante la settimana cerca sempre di dare il massimo. Quindi sotto il profilo fisico, militare, la squadra vuole uscire da questa situazione, vuole crescere.